Obiettivi sono riportare finalmente al vuoto tante persone che non si riconoscono né nel centro-destra né nel centro-sinistra che hanno fatto politiche sostanzialmente sovrapponibili di privatizzazione selvaggia dei servizi, di mancanza di sicurezza. Noi siamo oggi per esempio evocativamente in una zona particolarmente sensibile da questo punto di vista. Le soluzioni che vogliamo portare sono principalmente soluzioni amministrative, la riqualificazione di quest'area dando un ampio respiro urbanistico e riportando la gente a Saione. Daniele Farsetti, candidato sindaco al comune di Arezzo per la lista patto civico, sceglie il quartiere di Saione per presentare i candidati della sua lista. La sicurezza, detto, è indubbiamente un tema cardine ma non è l'unico o il primo della lista. Come ci conferma il suo capolista, impegnato soprattutto nella questione del termo valorizzatore di San Zeno. Devo con un minimo di presunzione dire che è un tema mio, nel senso che su questo tema io dal 2012 mi sono avvicinato ai temi amministrativi, fin da quando si parlava del raddoppio per il nuovo gestore. Ora ho seguito tutta la vicenda del progetto di AISA Impianti presentato in comune, presentando ovviamente delle osservazioni e tentando fino all'ultimo, con tutti i mezzi che mi sono venuti in mente, di fermare questa cosa. Ora, l'unica possibilità è di governare questa città e di ripresentare un progetto perché ritengo di avere dimostrato con i numeri, anche con quelli che poi usai impianti per regioni diverse, di aver dimostrato che non serve questo potenziamento. Io condivido pienamente l'idea di questa giunta di portare ad Arezzo la gestione di tutti i rifiuti della provincia. In questo contesto però, insisto, non serve comunque potenziare il termovalorizzatore, almeno nella misura in cui loro hanno chiesto, e soprattutto non serve aumentare l'autorizzazione a 75.000 delle tonnellate da termovalorizzare. Questa è una valutazione che io considero tecnica, sono pronto a discutere in qualunque sede, non le trovo le sedi in cui qualcuno sia disposto ad ascoltarmi, però questa è una.